Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Lancia una lanterna cinese che provoca un incendio sul San Bartolo Denunciati due giovani pesaresi Scippa un portamonete a una donna, un poliziotto lo insegue e lo blocca Arrestato un 46enne dell'entroterra a Fanese A Mercatello sul Metauro una serata spettacolo dedicata a Ismaele Lulli Con l'Art Emotion di Ivan Cottini, tra il pubblico la mamma Deborah Diminuiti i tempi d'attesa al pronto soccorso del Santa Croce Ma gli accessi impropri sono in aumento La replica del responsabile titolo che si scusa con Anna Maria Ma commenta, la nostra mission è quella di salvare che è in pericolo di vita Al domani via la festa dei quattro cantoni nel centro storico di Fano Mentre sabato torna la passeggiata degustativa di In Gir per Fan Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Le lampade cinesi sono quelle lampade fatte per lo più di carta Con all'interno uno stoppino con della cera che arde E per effetto del calore volano verso l'alto Un po' come fanno le mongolfiere Due giovani pesaresi sono finiti nei guai Perché dopo averne accesa una Questa anziché andare verso il mare È ricaduta sulla falesia del Monte San Bartolo Risultato? Andati in fumo 1500 metri quadrati di macchia mediterranea E i due sono stati denunciati Ci dice tutto sull'accaduto il servizio realizzato da Simona Zonghetti 1500 metri quadrati di macchia mediterranea Andati in fumo i due giovani pesaresi denunciati A piede libero per incendio boschivo colposo È il bilancio di quanto accaduto la notte scorsa Sulla strada panoramica adriatica In località Santa Marina Alta Dove due 19 anni, un ragazzo e una ragazza Hanno spiegato alla polizia e ai vigili del fuoco di Pesaro Di aver involontariamente dato origine al rogo Accendendo e lanciando una lanterna cinese Che invece di allontanarsi verso il mare aperto Come loro intenzione Per un colpo di vento è ricaduta nella falesia sottostante Appiccando il fuoco alla vegetazione La coppia aveva allertato Con il cellulare forze dell'ordine Pompieri che con otto uomini e due mezzi Sono riusciti a circoscrivere e spegnere l'incendio Un gioco che questa volta avrebbe potuto causare un vero e proprio disastro E sempre la polizia ha tratto in arresto un 46enne Residente nell'entroterra affanese Sorpreso nella flagranza di reato di furto aggravato È accaduto ieri mattina intorno alle ore 10 In via Baldassini Dove l'uomo ha scippato il portamonete Contenente una decina di euro dalle mani di una donna Avvistato da un agente È stato inseguito e bloccato Oggi il 46enne è stato sottoposto a processo con rito del patteggiamento E condannato ad un anno di reclusione Oltre a 300 euro di ammenda Rimesso in libertà È stato allontanato dal comune di Pesaro Con foglio di via obbligatorio Emesso dal questore A Mercatello sul Metauro Si è svolta ieri una serata spettacolo Intitolata Ismaele Lulli Con l'arte motion di Ivan Cottini Tra il pubblico anche la mamma Deborah Ringrazio anche da parte di me Grazie a tutti Ti ricorderemo così Felice, sempre sorridente Perché no, anche un po' pazzerello come me E sono convinto che tutta la provincia sarà lì Accanto alla tua famiglia E insieme ci guarderemo il più bello spettacolo Che le ragazze artemotion possano fare Ciao Ismaele Sono le parole toccanti Scritte sulla pagina Facebook Da Ivan Cottini Il giovane modello affetto da Sla Che ha organizzato questa serata A Mercatello sul Metauro Per ricordare il 17enne Ucciso per gelosia a Sant'Angelo in Vado Nel piazzale del paese L'intera comunità del Monte Feltro Si è stretta attorno alla famiglia Lulli E in particolare alla mamma Deborah Che non è voluta mancare A questo speciale appuntamento Un abbraccio Una rosa bianca E tanti applausi Dedicati a lei E al suo angelo Io ringrazio Ivan Per questo bellissimo pensiero che ha avuto E se ci fosse Ismaele Sarebbe felice Ivan che ha deciso di devolvere Ricavato all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Era lì sul palco Insieme agli altri ragazzi del gruppo Per raccontare Attraverso il canto e il ballo Momenti di dolore E allo stesso tempo Di speranza L'importante risultato Aver visto la mamma di Ismaele Sorridere Darmi un abbraccio E vederla qui Comunque fra noi Perché sapevo Che era la sua prima uscita Quindi io stasera Vado a casa Proprio felicissimo Sicuramente ci dobbiamo stringere a lei Farle coraggio Per quello che si può Perché siamo tutti genitori Abbiamo figli E sicuramente questa cosa Ci ha colpito in modo particolare Questo è una bella cosa Che è presente con noi Almeno sente un po' il calore Di tutte le persone Che gli stanno vicino Presente allo spettacolo Anche il sindaco di Sant'Angelo in Bado Gian Alberto Luzzi Serate come queste Ha detto Fanno riflettere E crescere giovani E meno giovani Debora Ha dimostrato La sua grandezza In questo momento Così difficile Però la sua grandezza Serve a tutti noi Da insegnamento E l'insegnamento È quello di trasmettere I nostri figli Dei valori Che molto spesso Abbiamo fatto perdere Non dobbiamo perdere Questa occasione Perché può essere Una delle ultime E nei giorni scorsi Vi abbiamo fatto sentire Le rimostranze Di una donna Che dopo essersi recata Al pronto soccorso Del Santa Croce Qui a Fano A causa di una caduta In bicicletta Atteso sei ore Dopo per essere medicata E oggi Ha parlato Il direttore Giancarlo Titolo Che ha replicato Le sue dichiarazioni Sentiamo Che cosa ci ha detto La mission Del pronto soccorso È sui codici gialli E sui codici rossi E su parte Dei codici verdi Ok In realtà Tutto il resto Noi lo facciamo Non diciamo mai No a nessuno Però ovviamente Ai tempi Poi Noi ci dedichiamo Sicuramente Ai pazienti In pericolo di vita E questo È ovvio Voglio dire Non esiste Un tempo massimo Di attesa Esiste un tempo Giusto di attesa Giancarlo Tito Il direttore del pronto soccorso De Santa Croce di Fano È intervenuto oggi Per chiarire la situazione Dopo alcune lamentele Da parte di cittadini Per le lunghe attese In sala d'aspetto Il problema riguardante E poi Insomma L'intervista recente Della signora Insomma Che comunque Il torto Si misura da chi l'ha ricevuto E non da chi l'ha fatto Presumibilmente Quindi Chiedo scusa Evidentemente Insomma Non siamo stati all'altezza In quel momento Però Bisogna considerare Alcune cose Insomma Soprattutto Che Comunque All'interno Insomma Della nostra organizzazione Operano Dei professionisti Validi Sono aumentati Del 30% Gli accessi Del pronto soccorso Ci spiega Sono circa 130 Quelli giornalieri Nel periodo estivo Contro i 90 In quell'invernale E per far fronte All'emergenza Sicura Sono stati presi Diversi provvedimenti Per non creare Ulteriori disagi Come l'apertura Di ambulatorio Le chiamate Medici reperibili Dal punto di vista Organizzativo Siamo riusciti Insomma A contenere Le attese Ai livelli Dell'inverno Forse qualche cosina Ma non significativa Inferiore Insomma Rispetto all'inverno Statisticamente In tutta Italia Mediamente Gli accessi Impropri Sono Circa il 60 70% Tanti Molti Tanti Però ripeto Non risolviamo problemi La medicazione semplice Ricorda Può essere fatta Anche dai medici Di base O da una guardia medica Poi Titolo Ci racconta Di quando Dieci anni fa Riuscì a salvare La vita Ad un giovane paziente All'ospedale San Salvatore Di Pesaro Recentemente Poi è arrivato A Nosocomi Un uomo più grande Ma con le stesse Problematiche Di quel ragazzo Che aveva curato Tempo fa Una vicenda Che racchiude L'obiettivo Dice Del pronto soccorso Quando sono uscito fuori Ho trovato il figlio Che era quello Che avevamo curato Insomma a Pesaro Diciamo che siamo uniti Insomma Non solamente come ospedali Ma anche nella Nella missione Insomma Di salvare vite E cambiamo decisamente Argomento Il centro recupero Animali selvatici Non chiuderà Profico incontro Del presidente provinciale Daniele Tagliolini Con le associazioni Ambientaliste E quattro consiglieri Regionali Che ha visto tutti uniti Nella volontà Di mantenere in vita La struttura importante Per il soccorso La cura E la riabilitazione Degli animali selvatici L'assessore regionale Competente Moreno Pironi Vorrebbe arrivare A una soluzione Entro il 7 agosto Prossimi Ed ora Veniamo agli eventi Prende il via Domani sera La festa Dei quattro cantoni Una festa Amatissima E ieri vi abbiamo Fatto vedere Nel TGI I primi due E quest'oggi Vi facciamo vedere Gli altri tre Vediamo Saranno gli spettacoli Le specialità culinarie Tipiche fanese E l'allegria Di un appuntamento Legato alla tradizione A dare il via domani Alle due giornate Dedicate alla festa Dei quattro cantoni Dopo l'angolo Di Corso Matteotti E della zona Pincio Rispettivamente dedicate Al cantone Della Bracceria E del Fritto Questa sera Scopriremo gli altri punti Della manifestazione Che si svolgerà Anche venerdì 7 agosto Il terzo cantone Quello della Tagliatella In via Cavour Organizzato Dall'Osteria La Peppa L'Osteria La Peppa A Borgo Cavour Avremo una proposta No gastronomica Come sempre Legata molto Al territorio Alla tradizione Quindi Dalle tagliatelle Gnocchi Crestiate Tutte quante le paste Fatte a mano Che produciamo noi Logicamente Condite con Il ragù I fagioli Poi praticamente Avremo anche La trippa Le cresce sfogliate Con salsiccia Erbe Prosciutto E quant'altro Logicamente Oltre all'intrattenimento Per i più grandi Quindi gruppi musicali Ci sarà anche L'intrattenimento Per i più piccoli Quindi con La straordinaria Partecipazione Di Masce e Orso E Oltre Al mangiare Si potranno bere Anche la nostra birra E il nostro vino Che abbiamo presentato Pochissimi giorni fa Al Bu Burger È affidato invece Il cantone Della cresce Della grigliata In piazza Marcolini Partiamo dalla grigliata Tagliatelle ragù Piadina Comunque tutto menù A base di carne Ad animare la serata Ci sarà L'animazione Di tire molle Per i più piccoli Poi per i più grandi Invece avremo L'Amicos Band Nella prima serata E nella seconda Invece avremo DJ Balli di gruppo Zumba Per finire con Uno spettacolo Di progetto danza In via di Amici Sarà gestito Dal Caico Il cantone Della rustita Di marinai Fanesi Siamo marinai Da generazioni Abbiamo sempre proposto Nelle manifestazioni Anche nel mio ristorante Comunque si E piatti tipici marinari E il piatto Diciamo Più importante L'arrostita Che pesce arrosto Cotto nei foconi E per quanto riguarda La musica invece? La musica abbiamo La prima serata Luca Vagnini Con i suoi ragazzi E la seconda serata Abbiamo la Bugaron Band Per informazioni È possibile contattare L'ufficio al turismo Al numero 0721 88 73 14 Oppure Lo Yacht Fano Allo 0721 80 35 34 E sempre in tema Di manifestazioni Torna invece Sabato 8 In giro per Fana La passeggiata Degustativa Un po' più giovane Rispetto ai quattro Cantoni Ma comunque Sempre molto Amata e gettonata Per le vie Del centro storico Di Fano Vediamo quali sono Le nove tappe Di quest'anno Un kit di degustazione Una cena itinerante Con prodotti tipici Locali Monumenti aperti Musica live E artisti In ogni angolo Del centro storico Di Fano Questi gli elementi chiave Che hanno decretato Successo Degli scorsi anni Del tour cittadino Tra cultura Arte E gastronomia E che quest'anno Torna sabato 8 agosto Da San Paterniano Con partenza Alle ore 19.30 Piazza 20 settembre Per diversi anni Abbiamo fatto La parte Diciamo a nord Della città Attraversando La mura L'arco L'arco d'augusto Quest'anno Partiremo Dalla chiesa Di San Paterniano Arriveremo I giardini bracci Per fare Tutto corso Cavour E arrivare Praticamente In piazza Costanzi E poi andremo A toccare Appunto Piazza Marconi E arrivare Proprio nella piazza Corte Malatessiana Giardini Amiani Quindi Prenderemo La zona sud E tutto il centro storico Le nuove tappe Sono state indicate Con una linea verde Mentre quella rossa Mostra Le iniziative collaterali Organizzate sempre Nel centro storico Va bene Fare il percorso E quindi Fare la passeggiata Degustativa Ma la città È ampia Quella sera È totalmente visitabile Abbiamo della musica Una dimostrazione di ballo Anche davanti al Pino Bar Abbiamo la Darsena Borghese Una bellissima mostra Sulla prima guerra mondiale Il contributo Della Regia Marina Insomma Quella sera La città Sarà totalmente aperta A continuare ad essere vicino All'evento E al mondo Dell'associazionismo È la banca di credito cooperativo Di Fano Noi Anche quest'anno Diamo il nostro contributo Sia alla Proloco di Fano Sia a tutte le associazioni Che la compongono Noi crediamo In questa manifestazione E ci auguriamo Di esserci anche Nei prossimi anni Il biglietto Ad un costo Di 16 euro Si potrà acquistare Direttamente L'8 agosto Nel punto di partenza Oppure in prevendita Nell'ufficio degli alberghi Consorziati In Viale Adriatico Al Bomber Bar A Tre Ponti Al Bu Burger In piazza 20 Settembre O nel punto Yacht Di Torrette In Girberfan Quest'anno Presenta il logo Di Marche Expo 2015 Quindi un grande successo Un grande successo Per una grande organizzazione Ovviamente Questa manifestazione Turistica per eccellenza Culturale Quindi piacevolissima Coniuga molto bene I valori di Expo Perché si mangia In compagnia Le eccellenze No gastronomiche Del territorio Che quindi Vengono scoperte Dai turisti Anche dai cittadini Che magari sono più sobri È una serata Insomma Con una grande degustazione E poi si guarda L'Italia L'Italia a Fano Che è presente I suoi migliori monumenti Quindi direi In pieno spirito Expo Ed ora siamo allo sport Nella bella cornice verde Dei giardini Tonucci a Torretti di Fano Si svolgerà L'8 e il 9 agosto La quarta edizione Del torneo di street ball Ovvero Il basket di strada Organizzata dall'associazione Di promozione sociale Daniel Anton Taylor In collaborazione Con il comune di Fano La finalità Della manifestazione È quella Di reperire fondi Per il finanziamento Della settima borsa di studio Istituita in collaborazione Con l'università Degli studi di Perugia È destinata A studenti meritevoli Che si trovano In difficoltà economica Il tutto In memoria Dell'amico Daniel Anton Taylor Scompasso nel 2009 In un tragico Incidente stradale Vi ricordiamo Che le iscrizioni Per questo torneo Termineranno venerdì Alle ore 14 Venerdì 7 agosto Naturalmente Se non avete fatto in tempo A prendere gli appunti Sui riferimenti Troverete sul nostro sito La Locandina Dove ci sono Tutti i numeri Da contattare E ci lasciamo Con un appuntamento Domani sera Alle ore 21 Alla BCC Arena Di Tre Ponti Per la rassegna Musica sotto le stelle Concerto dell'Orchestra Sinfonica Rossini E Queen's Symphony The Show Must Go On Con brani E musica Della band inglese Dei Queen Bene Grazie per aver preferito Anche la nostra informazione Che naturalmente Tornerà Con Occhio alla Notizia Domani sera Alle 20 e 30 Punta puntualissima Buonasera E buon proseguimento Con i programmi di Fano TV Grazie per avermi